Visualizzo l'elenco dei soci dell'ATIT che hanno i requisiti per partecipare all'estrazione del premio di 100 euro in buoni libri e se in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno 2015. Scrivo la formula per generare un numero casuale tra 1 e 84. Il vincitore e il socio corrispondente al numero 8, il signor Carlo Biancardi. L'estrazione è stata svolta il 9 aprile 2015 dal sottoscritto Alessio Martinoli.